Ehi, stavo per uscire. Che c'è? Ok. Ecco, il mio modo per scusarmi con te, per quello che ti ho detto a scuola sul cerchio rosso, sono con te e con la tua squadra. Anche a rischio di far arrabbiare i miei, specialmente mio padre, che è quello che si merita dopo aver giocato a manipolarti. Ronnie, devo andare ora. E comunque è tardi, il cerchio rosso ha chiuso stamattina. Aspetta, cosa? È già finita. Beh, per gli altri almeno sì, ma non fa niente, è la mia guerra. Gli altri non servono. No, 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 se è la tua, allora è anche la mia. E non puoi essere da solo contro un pazzo armato. No, Riverdale ha bisogno che il cerchio rosso si espanda, non che si contrada. Sì, ma i ragazzi... Codarti senza spina dorsale, questo è chiaro. Per tua fortuna, io non lo sono. Sì, ma i ragazzi. Questa non lo sono. È anche la mialynia. Per tua fortuna. Grazie a tutti